Buongiorno sono Alessandro Fantilli, sono un docente di tecnica delle costruzioni al Politecnico di Torino dove insegno cemento armato. Oggi sono al MADE con i miei studenti, con gli studenti del mio corso e per me questa visita è estremamente importante perché nell'ambito del mio corso purtroppo alcuni argomenti sono difficili da trattare, soprattutto quelli relativi al mondo della produzione del calcestruzzo e del cemento in generale. Per cui questo contatto tra il mondo accademico, gli studenti e le industrie che in qualche modo sono coinvolte nella filiera del cemento e del calcestruzzo è estremamente importante perché permette a chi si affaccia per la prima volta in questo mondo di capire i due diversi aspetti. L'aspetto diciamo un po' più teorico, quello che apprendono normalmente all'università, è quello un po' più pratico che è legato al mondo del lavoro, al mondo della produzione di questo materiale.